Allora, oggi andiamo a vedere quello che è un tizio a cui è rimasto una palla da basket Non sto scherzando, una palla da basket Un po' qua dietro Non so quanto possa essere vero una cosa del genere Ma guardiamo Aspetta un attimo Ma se il sellino è appena caduto, lui dove si sta sedendo? Gli è proprio entrato Un po' schifo fa questa cosa, eh? Ci sta Belli sti pantaloni Cos'è un'armatura in ferro di Minecraft nella vita reale, di base? Non so come fai ad uscire da una cosa del genere Ci vuole tipo la motosega che te la taglia lì Oh Harry Potter dell'Ohio questo è, sì, con la gru Ma che cazzo, madonna che rinculo c'ha quella cosa Non ci credo, raga Non ci credo col compressore, si è spaccata tutti i denti Oh mio Dio E in un campo da calcio, ma sopra Oh mio Dio Non so se lo farei Ci sono delle tipo Sono quelle di Antman queste, scusatemi Cioè cosa sono delle formiche istruite? Ma che cazzo Cioè non ho capito Tipo gli dicevano la via Cosa fa con una torcia questo di... Ah Ok Non capisco come ci sia un portale di schiuma Questo è quando si dice sei una mer... Nel vero senso della parola, credo Questo è un personaggio degli anime della vita reale C'ha la spada infuocata, una katana Non so se farei una cosa del genere nella mia vita io, eh Che c'ha nella tasca il tizio? Come facciamo a tenere un bicchiere di birra nelle tasche, scusatemi Cosa fa? Ah ok, siccome si scivolava fuori Si scivolava a terra Cammina così Ditemi che è uno scherzo raga Questa è l'intelligenza artificiale che sta disegnando Sì è la cosa più inquietante sulla terra Oh mio Dio È inquietantissima sta roba raga Cosa fa? Madonna Che figata raga No questo lo farei troppo Perché alla fine è pure lento È bellissimo Tipo a Natale Che figata Una cascata di nuvole Bellissimo Vorrei troppo a vederle queste cose nella mia vita raga Ah oddio lo conosco questo posto Non ci sono mai stato perché non credo che sia in Italia Ma è tipo una specie di pavimento di acqua Cioè non so come spiegarlo Oh mio Dio No non credo che ci cadrei lì in mezzo Ma scusatemi Oh mio Dio ne è caduto uno Guardate quanti raga Madonna che bordello Che bordello assurdo tutti Madonna mi sembra veramente esagerato Zicolo devi bruciare l'albero a finisce Natale Chi sei il Grinch Ma quant'è che non mangiava quell'oca scusatemi Ecco complimenti Non so se lo proverei Mi sembra molto poco safe una cosa del genere No Cos'è? No 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 zi non ci posso Cioè pensava che si fosse macchiato lui capito Ha distrutto una casa Immaginati a entrare in bagno per farti una doccia o un bagno E trovare una tigre Quale sarebbe la vostra reazione raga? Ok Nuovo modo per buttare l'immondizia Sì sicuramente più veloce Oh mio Dio Gli ippopotami Sì 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 Ragazzi guardate che gli ippopotami fanno più Tipo che è uno dei più Proprio letteralmente pericolosi Cosa fa sto tizio? Ma? Cosa sta facendo raga? Non ho capito Ok Quando non vuoi camminare Quindi sci Ci sta per tipo andare non lo so A fare la spesa Ha senso E se becchi il palo? Non lo becca il palo Lui è bravo Macchina sarebbe scusatemi Proprio si levigano le Cioè il telaio non esiste Sta scalando una cascata? Non so se lo accarezz... Oh mio Dio Cosa ho fatto? Ma che cazzo... No no Spero che nessuno mi farà mai uno scherzo del genere Mai Ah ho capito Quindi è così che nascono le capre Dagli alberi come le mele Interessante ragazzi Cos'è? Che figata oh Madonna bellissimo quel posto Buon anno nuovo Eh signora mi sa che c'è un piccolo problema dietro di lei Non se ne è accorta la signora mi sa Eccoci qua E va fatto la doccia Ma che cazzo... Ma gli è rimasta la macchina? Questo è come i delfini giocano a Rocket League Bellissimo Madonna ragazzi Ah ok Perfetto Pensavo... No perché all'inizio ne aveva schivato uno No no dico questo è un grande No Ha investito letteralmente tutti Madonna zi Non provate una cosa del genere mai nella vostra vita Madonna sembrava Bruno Barbieri all'inizio Ma come fa? Il campione mondiale di risbi Ma che cazzo... Come ci riesce? C'è così freddo fuori che l'acqua diventa ghiacciata appena esce Ma com'è possibile? C'è ci sono tipo due gradi? Non due gradi ma meno cinquanta saranno Pfff È reale una cosa del genere? C'è un tipo che sta surfando su uno tsunami? Non può essere vero una cosa del genere ragazzi scusatemi E appena l'onda cade che succede? È finita per lui C'è l'ultima surfata Ho capito Questo è Harry Potter che dice... Che tipo non lo so Quinta Hogwarts e diventa un pianista? Cosa ci fa Moltres nella vita reale? Scusatemi Che cosa succede? No voglio provarla questa cosa Come cavolo c'è riuscita? C'è il fumo è tornato indietro? Madonna quant'è che salta questo? Devo andare a giocare a basket Sta volando raga Madonna Oh mio dio Oh mio dio Non so quanto sia pulito quel tetto eh Che schifo Ci cagano i peggiuccelli lì Ma sembra uno specchio di Transformers Unito a Groot dei Guardiani della Galassia In realtà raga eh Bellissimo Bellissimo Ti è chiesto di avere un po' di rispetto E si è messo in ginocchio Per cosa si sta allenando Questo tizio Scusatemi Non ci credo Ma? Ha perso vent'anni di memoria Un tizio del G Questo non si ricorda Manco come si chiama Dopo la botta che si è presa in testa Sì se quella lì è Coca Cola Questo qua mi tira un rutto gigantesco Tra poco eh Appunto Ok Che bello sto cane Cos'è? La tartaruga ninja? No È un procione Ok questo è Steph Che si mangia il bambù Felice ovviamente Che bello Ah ok L'ultima sciata la finiamo così Sarà caldissima con l'acqua immagino Madonna raga Quanto sta Madonna Oh mio dio Pensavo stesse volando È una piscina ghiacciata Oh mio dio No non gli piacciono i capelli Mi sa Ma? Oh mio dio Che figata Quello era un'aquila Che figo Che figata Oddio Si va è finito nel bosco il tizio Martello di Thor Ha spento la sala giochi Raga Ha spento la sala giochi Ma che car... Madonna Quanto è grande quella pizza? Non lo vuole il ketchup? Niente Sì mi sa che lo voleva il ketchup Eh Ma? Jetpack sott'acqua Bellissimo Ma che figata raga Non vorrei troppo provarlo Oh mio dio Sì Strike Strike Peccato che devo andare a pagare Il tipo del bullying E che cosa succede Se ti dimentichi Cioè tipo Se rimani seduto lì Che succede? Se dovessi rimanere Tipo seduto lì Che cosa Cosa ti fa quella macchina? Ti piega? Letteralmente? Perché sta facendo skate Su uno schermo Su una tv? Ma che cazzo Ma questo si fermerà mai? No Non si fermerà mai È un alieno? Ma è un gatto Con due occhi Che figata Gli hanno fatto una casetta Che bello Che bello In Spagna Sta dormendo Ma mi sa che non si accor- Ma che cazzo Questo tizio può parlare ai pesci Stanno facendo tipo Meeting di lavoro Ci sta Mi piace Credo abbiano preso Il pesce sbagliato Eh Non vorrei dire Una cavolata Ma Madonna raga Immaginate un orso Che ti entra dentro casa Vuole la giacca Eh Vuole la giacca Ci sta Non so come mettersi Ah no Non ci credo Che se l'hai messa Ma che cazzo Ma perché? Cos'è tipo Volevano rapinarlo? Quanto trucco c'ha? Scusami Il gesso Oh mio dio E questa Mi sa che è la fine Che ha fatto Quell'altro Sullo tsunami Ma è peggio Ma che cazzo Ma è pazzo? Oh mio dio Ma come Ma non credo Che sia vera Sta foto raga È photoshop palese È photoshop Secondo me Cioè Sembra veramente vera Però secondo me È tipo make up Oppure qualcuno Tipo raga Malato Ma non è una palla Da basket Sta roba Non credo Sia una palla Da basket Raga Dubito fortemente Voi che ne pensate Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Nel dubbio Vi invito a lasciare Like Condividere E iscrivervi Perché siamo quasi a un milione Tra poco ci sarà Uno speciale incredibile E nessuno di voi Si aspetta cosa sto per fare Perché sarà qualcosa Di incredibilmente estremo Noi comunque ci vediamo Alla prossima Bacino raga Vi voglio bene Ciao a tutti